L'atto di vandalismo avvenuto nella notte tra il 30 e 31 dicembre scorsi nella sede del Teatro per Bambini Casa di Pulcinella non scoraggia Paolo Comentale. Il fondatore della struttura è pronto a fare meglio e di più, anche se resta l'amaro in bocca per l'accaduto che evidenzia, secondo Comentale, l'alto livello di degrado sociale che si vive in città. I vandali hanno scardinato la porta e portato via dei contanti, una macchina fotografica e due microfoni. Qualche episodio simile, ma non così grave, non si registrava nella struttura dal 2007. Dal 6 gennaio però alla casa di Pulcinella si riparte, con lo spettacolo Pulcinella e la Befana in scena alle 18 e poi si continua l'8 gennaio con due spettacoli alle 16 e 18 con Pulcinella Varietà. L'unico modo per andare avanti è non piegarsi a logiche sciacalle. Intanto la polizia sta indagando su quanto accaduto. Il suggerimento da parte di molti è quello di realizzare una grata in ferro di protezione all'ingresso della struttura, cosa sulla quale Paolo Comentale in queste ore ci sta riflettendo su. E infine tante le attestazioni di solidarietà da parte di alcuni esponenti della cultura e dello spettacolo baresi e nazionali. Primo fra tutti il presentatore Antonio Stornaiolo, che si è reso disponibile sia professionalmente che economicamente ad aiutare la casa di Pulcinella, i coniugi muti e Vincenzo Montrone, presidente del comitato per Benedetto Petrone.